I contagiati ufficialmente nella città di Bitonto in questo momento sono tre, vi posso dire che sono contagiati che non hanno contratto o non avrebbero contratto il contagio per comportamenti nell'ambito cittadino, ma per trasferte che sono avvenute per motivi turistici trasferte che non sono tutte ricollegabili a trasferte estere, c'è un caso anche su trasferta di carattere regionale, tutte e tre le persone sono in buone condizioni, nessuna ricoverata, sono tutte assistite a livello domiciliare, non hanno sintomi particolari, si sono sottoposte a tampone per questioni di carattere prudenziale o per situazioni di contagio comunicate dalla ASD che poi li ha convocati e li ha richiesto di effettuare il tampone. Quindi non sembrano esserci situazioni di potenziali focolai e la situazione sembra assolutamente sotto controllo. La mascherina ormai deve diventare un accessorio fondamentale della nostra vita, quotidiana. Questa è una situazione con la quale dobbiamo convivere, convivremo anche con l'apertura delle scuole. A chi giustamente mi sta chiedendo come ci stiamo organizzando per l'inizio dell'attività scolastica, come sapete siamo dipendenti dalle decisioni del Ministero della Pubblica Istruzione in merito, il Comune sta facendo la sua parte. Non appena saremo pronti per una comunicazione dettagliata e sufficientemente esaustiva per quanto riguarda le spiegazioni da dare in riferimento a mense, trasporto scolastico e organizzazione delle aule, lo faremo. Vi dico subito che ci stiamo organizzando per l'apertura di ulteriori classi che evitino eccessivi affollamenti da parte dei nostri bambini.